Oggi ho usato per la prima volta in assoluto il sistema e ho guadagnato 5.900 euro. Mai guadagnato una lira prima col trading. Sono scioccata. Uso The Crypto Genius da 6 giorni e sono riuscita a guadagnare 5.900 euro in 24 ore. Ciao Cristiano, è proprio come avevi detto tu. Sono riuscita a guadagnare 5.900 euro in 24 ore. Ci ho messo due minuti per configurare il sistema. Ancora non ci credo che sia vero.